Come ha fatto l'assemblea con i lavoratori del Comune di Alessandria? Abbiamo raccontato ai lavoratori che hanno escluso problemi per i lavoratori e per le partecipate e che hanno detto che appena chiusa la partita del bilancio ci convocheranno con federali e categorie per l'analisi della situazione. Con i lavoratori siamo stati estremamente chiari perché è giusto che loro abbiano tutte le informazioni e siamo sicuramente preoccupati della situazione ma valuteremo momento per momento gli elementi che avremo a disposizione. Di conseguenza i lavoratori hanno scelto con noi di andare a vedere le carte appena queste saranno a disposizione.